Ciao, benvenuto a questa nuova puntata della nostra rubrica C'era una volta. Oggi mi farà compagnia direttamente da Ina la Borsina il mio ben libro intitolato Le magiche avventure di Dorina, da cui vi leggerò una favola. Bene, sei pronto? Oggi mi sa che viaggeremo nel vero senso della parola. Bene, mettiti comodo perché sto per raccontarti di un magico hotel. Un magico hotel. In un fine settimana durante l'inverno, date le giornate previste di bel tempo, la mamma e il papà decisero di portare Dorina in vacanza. Sarebbero stati solamente due giorni, ma quando si trattava di vacanza, andava bene tutto. Anche due giorni potevano bastare per fare nuove esperienze. Partirono al mattino presto con la loro automobile e raggiunsero il luogo prescelto. Un piacevole paesino in collina dove sorgeva l'unico hotel della zona. Nonostante fosse inverno, le giornate erano fredde ma limpide e tutto intorno la vista si perdeva lontano fino ad arrivare alle montagne all'orizzonte. L'hotel delle meraviglie, così si chiamava, era moderno e molto allegro, date le pareti dipinte di tanti colori. Il proprietario li accolse spiegando loro che in quella zona nessuno mai aveva pensato di costruire un albergo perché quella non era una zona propriamente turistica, ma lui lo aveva fatto perché riteneva che il suo fosse davvero un bel paesino che meritava di essere conosciuto da nuove persone, turisti e visitatori. Dorina ascoltava attentamente quel simpatico signore, anche se fremmeva per la voglia di vedere la camera dove avrebbero alloggiato. Di lì a poco furono accompagnati appunto nella stanza loro assegnata. Il suo letto era morbido e comodo e le tende alla finestra erano colorate con dei bei fiorellini applicati. Decisamente un'ottima scelta, quel paesino e quell'hotel promettevano bene. Una volta sistemato il pigiama sotto il cuscino e qualche indumento nell'armadio basso decorato con una simpatica giraffa, Dorina con i suoi genitori decise di uscire. In corridoio li aspettava l'ascensore con le porte già aperte. Vi entrarono e davanti agli innumerevoli bottoni rimasero dubbiosi a quale dovessero pigiare. Loro si trovavano al terzo piano e credevano di dover pigiare il numero zero per tornare giù. Ma il numero zero non c'era e a dire il vero non c'era nemmeno il numero uno, nemmeno il due e il tre. Per intenderci ad ogni bottone non corrispondeva un numero ma un disegno. Un disegno sempre uguale per tutti i bottoni, una piccola faccina sorridente che faceva l'occhiolino. Avete presente l'emoticon dell'occhiolino? Ecco, proprio quello. E ora come si fa a scendere giù? Che pulsante premiamo? Esclamò la mamma. Ma proviamone uno a caso, rispose il papà. E così provarono con l'ultimo. Pigiato il bottone, le porte dell'ascensore si richiusero e iniziò la discesa o forse la salita o forse cosa. Dall'interno né Dorina, né la mamma, né il papà si rendevano conto che direzione avesse preso l'ascensore, se verso il basso o verso l'alto. Sembrava piuttosto che avanzassi in avanti. Si sentivano come in un automobile che corre in avanti veloce come in autostrada. Ad un certo punto poi l'ascensore si arrestò e molto lentamente aprì le porte. Dove erano mai arrivati? Lì fuori era tutto buio. Fecero un passo in avanti e tutte e tre si resero conto di calpestare qualcosa di irregolare, tipo pietrine miste a terreno. Alle loro spalle l'ascensore richiuse le porte e scomparve nel buio. Improvvisamente tutto intorno divenne luminoso, solleggiato e meraviglioso. Ma dove erano finiti? Si trovavano nel bel mezzo di una... di una savana. Sotto i loro piedi c'erano sassi di varie misure e ad appena 50 centimetri di distanza iniziava una distesa di erba alta quasi quanto l'oro. Dorina era super eccitata, gli occhi le brillavano di quella curiosità tipica di chi non vede l'ora di fare nuove scoperte. Che meraviglia! urlò la bambina pronta a lanciarsi in una nuova avventura. La mamma e il papà erano al contrario pietrificati. Non riuscivano a dire una parola e nemmeno a muovere un passo. Entrambi credevano che forse presi da un sonno improvviso si fossero addormentati e stessero sognando. Ma non era così. Quella savana davvero esisteva davanti ai loro occhi in tutta la sua bellezza. Ad un certo punto videro avvicinarsi quattro zampe lunghe, lunghissime, magrissime. Lentamente alzarono lo sguardo su 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 sempre più su e arrivarono ad incontrare lassù in alto degli occhi troppo simpatici. Avevano davanti a loro una giraffa, una giraffa altissima che li salutò. Buongiorno cari amici, benvenuti nella savana. Qui fa tanto caldo e lo spazio è tanto per correre veloci. Mi presento, io sono Giffy. E io sono Dorina. Giffy, io credo di averti già vista. Certo piccola Dorina, rispose la giraffa. Mi hai vista raffigurata sull'armadio della tua stanza. È per questo che vi trovate qui. Alloggiate nella savana room e quindi l'ascensore vi ha indirizzati direttamente qui nella savana reale. Se aveste preso la jungle room, pensate un po', l'ascensore vi avrebbe portati direttamente nella giungla. Dorina si avvicinò alla giraffa, le accarezzò le zampe e le disse. Giffy sei bellissima, fammi salire in groppa, voglio vedere la savana. No Dorina, interruppe la mamma, non mi sembra una buona idea. E la giraffa. Non ti preoccupare, cara mammina di Dorina, non scapperò via, rimarrò ferma qui. Permetterò solo a Dorina di ammirare la savana dall'alto. E così dicendo, Giffy abbassò il lunghissimo collo, piegò le ginocchia e permise a Dorina di salire sulla sua schiena. E poi iniziò la spiegazione per quella bambina, che a bocca aperta si manteneva con le sue delicate manine al suo lungo collo. Vedi Dorina, guarda dietro quel baobab, c'è Zerbi. La mia amica zebra, molto timida, vi sta osservando da lontano ma non vuole avvicinarsi. E poi più lontano, vedi quella acacia? Proprio lì sotto, all'ombra dei rami, puoi vedere Leo. Lui è il leone più importante e il suo ruggito che ci fa capire quando è ora di svegliarsi, di dormire o di cambiare zona in caso di pericolo. Ci fidiamo tutti di lui. E lì chi c'è? chiese Dorina dirigendo il collo di Giffy proprio sulla loro sinistra. Ah certo sì, lei è Yaya, la iena canterina. Ci tiene allegri con le sue canzoncine divertenti. Poi lì nell'erba alta, poco distante da Yaya, c'è Giffino, mio figlio. Oh com'è carino! esclamarono all'unisono la mamma e il papà di Dorina. Ecco Dorina, continuò Giffy, hai potuto vedere qualche abitante della savana. Fissa ancora per qualche secondo lo sguardo all'orizzonte. Potrebbe succedere che vedi passare la famiglia di elefanti che si è da poco trasferita qui. Sono degli esemplari molto tranquilli e silenziosi e non fanno paura a nessuno. Ma certo sì, li vedo! esclamò Dorina guardando lontano, oltre i baobab. Poi Giffy riabbassò il collo e piegò le ginocchia per far scendere la bambina a terra e disse. Grazie per la visita, cari amici. Di solito salutiamo i nostri ospiti umani sempre con la stessa richiesta. Vi preghiamo, cari umani, rispettateci e non venite a distruggerci. Il mondo è più bello se viene rispettato. Ciao Giffy, grazie, sagge parole, rispose il papà. Improvvisamente alle loro spalle si materializzò nuovamente l'ascensore. Vi entrarono e una volta chiusesi le porte si resero conto che ad ogni bottone finalmente corrispondeva un numero. La mamma pigiò il pulsante numero zero e dopo poco l'ascensore si mise in movimento. Arrivati a destinazione le porte si aprirono e trovarono effettivamente al pian terreno il proprietario che li attendeva al bancone. Eccovi cari signori, disse il proprietario che sembrava attenderli. E di vostro gradimento la savana rum? E Dorina? Certo che sì, ho capito perché il vostro albergo si chiama Hotel delle Meraviglie. E dunque mi chiedevo, non è che potremmo cambiare stanza? Non so, qualcuno al terzo piano mi diceva che esiste anche la Jungle Room. Ma Dorina, disse il padre quasi a rimproverarla, non essere sgarbata, mi scusi signor proprietario, la savana rum va più che bene, grazie. Il proprietario sorridente guardò Dorina e rispose. Cara bambina, mi hai detto che hai capito perché questo posto si chiama Hotel delle Meraviglie. Ebbene sì, io ho viaggiato tanto e ho voluto dare ad ogni stanza il nome di uno dei luoghi che ho visitato. Ho visto posti incantevoli, delle vere e proprie meraviglie e ovunque ho imparato che la terra va salvaguardata e rispettata nella sua bellezza. Spero di riuscire a trasmettere sempre a tutti questo messaggio. E Dorina, io direi che ci sta riuscendo più che bene, bravo signor proprietario dell'incantevole Hotel delle Meraviglie. Detto questo, la mamma, il papà e una felicissima Dorina si incamminarono all'uscita per andare a visitare quel delizioso paese in collina. Bene, la nostra storia è finita, abbiamo imparato anche oggi qualcosa di molto importante e adesso ti faccio una domanda. Se dovessi anche tu visitare questo Hotel delle Meraviglie, in quale stanza ti piacerebbe alloggiare? Pensa, abbiamo conosciuto la Savannah Room. Room sta per istanza, lo sappiamo in inglese, Savannah Room. Il proprietario ci ha appena accennato la Jungle Room, la stanza della giungla. Ma se tu potessi stare in questo hotel, quale stanza vorresti visitare e quindi quale paese magico e incantato del pianeta Terra vorresti visitare? Pensaci, inventa e poi chiede ai tuoi genitori di andare sulla pagina Facebook Nuova Capri TV e fai loro lasciare un commento sotto questo video in cui farai scrivere loro la stanza che vorresti visitare di questo Hotel delle Meraviglie. Io per il momento ti saluto, buona fantasia e alla prossima. Ciao!